Dall'espettatore di Video33 un cordiale saluto dalla redazione e dalla regia. Dunque, come avete sentito dai titoli, dopo il silenzio imbarazzante del comune di Bolzano e della provincia, il conte Peter Thun rivela i particolari del progetto del virgolo. Non sarebbe stata una Thun City, dice, come qualcuno voleva farlo passare, ma una vera e propria collina delle fiabe rivolta a turisti e soprattutto ai bolzanini. Così com'è invece non è altro che un immondezzaio in servizio di Paola Bessega. Il silenzio vale più di mille parole. Eh sì, se ne è reso conto anche il conte Peter Thun. Il progetto di riqualificazione del virgolo non si farà. Questo ormai è noto. Il sogno di realizzare una vera e propria collina delle fiabe rimarrà ancora per un po' in un cassetto. Ma prima di porre la parola fine, il conte ha indetto una conferenza nella sede di Via Galvani per presentare anche alla stampa il progetto che il sindaco Luigi Spagnoli, già nell'ottobre del 2006 e poi il presidente della giunta provinciale Luis Durmwalder, avevano trovato molto interessante. Un progetto davvero avvenirisico ma realizzabile che avrebbe ridato vita ad un monte ormai dimenticato dai bolzanini grazie ad una bidonvia panoramica capace di trasportare 3.500 persone all'ora, aperta dalle 6 del mattino alle 24. Sui tre ettari e mezzo di terreno avrebbero trovato spazio un albergo a tre stelle, con 100 camere, un centro convention, un panorama caffè, un percorso fitness, una palestra di roccia con i presupposti per ospitare i mondiali di free climbing e ancora un percorso di mountain bike, nuove passeggiate, uno zoo con animali tipici dell'Alto Adige, una nuova sede per il Museo di Ezi e a base della collina un parcheggio da 4.500 posti. Un progetto da 255,8 milioni di euro, comprensivi di eventuali extra imprevisti, di questi 65 milioni di euro gli avrebbe messi la Thun per spostare l'amministrazione e realizzare il centro di ricerca e sviluppo e il vero e proprio Thuniversum. Da considerare poi che per compiere l'analisi e produrre lo studio di fattibilità l'azienda aveva già speso 380.000 euro. Dopo il silenzio da parte del sindaco Spagnoli, del mondo politico ed economico altoatesino, Peter Thun ha dunque deciso di fare chiarezza sul progetto una volta per tutte. Non solo Bolzano ma tutto l'Alto Adige avrebbe attirato turisti. Noi si prevedeva un afflusso di 1.250.000 persone che certamente non erano in aggiunta agli attuali visitatori, forse una piccola parte erano in aggiunta, ma era un ulteriore plus che si voleva dare all'Alto Adige. Non solo all'Alto Adige in termini di turismo ma soprattutto anche a livello di cittadini di Bolzano affinché possano utilizzare quello che attualmente è un bidone di modizia. Senz'altro la situazione costi è un fattore importante. Non dimentichiamo che i 255,8 milioni sarebbero stati un investimento totale del virgolo. Non dimentichiamo che la costruzione sarebbe durata 7 anni con un impegno di oltre 500, quasi 600 persone per questi 7 anni. Quindi un forte impatto anche a livello di occupazione in fase di costruzione. Quindi questo impatto costi poteva essere diluito nel tempo. Si poteva diluirlo non solo sui 7 anni, si poteva diluirlo anche di più. Senz'altro c'è la possibilità di farlo a step. Se manca una totale risposta ho l'impressione che manca anche un totale interesse. C'è chi vorrebbe, il virgolo, rimanesse una collina libra, magari un po' più pulita e chi invece potesse diventare un giorno o l'altro la collina delle fiabe. Solo il tempo ci darà una risposta.